È il momento dei saluti istituzionali e mi corre l'obbligo di cominciare con gli auguri di buon lavoro che provengono attraverso la consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale, la professoressa Luisa Corazza, che ha scritto alla Fondazione Cantabile e alla Presidente, gentile professoressa Meini, mi riferisco alla lettera con la quale ha informato la Presidenza della Repubblica delle iniziative organizzate dalla Fondazione Cantabile su input di un gruppo di associazioni locali in occasione del centenario delle vittime della fabbrica di fiammiferi Foss di Rocca Canavese ed in particolare del convegno dal titolo Lavoro e Vita. Il 15 marzo 1924 21 giovani vite vennero strappate alle loro famiglie e al loro futuro, un futuro che il lavoro in quella fabbrica di fiammiferi aveva illusoriamente reso meno incerto. Nell'Italia di quegli anni, schiacciata da un'economia poverissima e ancora prevalentemente rurale, l'impianto di una fabbrica, che avrebbe dato lavoro a tante persone salvandole dalla miseria, rappresentò per le famiglie una valida alternativa all'emigrazione forzata. Ma la tragedia non tardò ad arrivare e segnò una delle pagine più terrificanti della storia lavorativa del nostro Paese. La memoria storica purtroppo non ha riservato la giusta dimensione a questa strage che ci tocca ancora oggi per il numero di adolescenti che vi persero la vita. Negli ultimi decenni grandi passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza sul lavoro ed abbiamo preso coscienza della pericolosità dell'ingresso troppo precoce nel mondo lavorativo di bambini e ragazzi che, senza alcuna tutela giuridica, rischiano di compromettere irrimediabilmente il proprio futuro. I morti delle ultime settimane, tuttavia, ci dicono che quello che stiamo facendo non è ancora sufficiente. Per questo la scelta di voler ricordare il passato con uno sguardo al futuro, attraverso il convegno lavoro e vita, è ancora più apprezzabile, in quanto accende i riflettori su temi quali il diritto al lavoro e il diritto alla salute, che sono tra i principi fondanti della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, da sempre attento a tali problematiche, in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ha voluto ricordare che occorre un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione, affinché si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione. Nell'augurare a tutti i presenti i migliori auguri di buon lavoro, unitamente a espressioni di apprezzamento e incoraggiamento, mi è gradito porgerle i saluti del Capo dello Stato, ai quali volentieri unisco i miei personali. Professoressa Luisa Corazza. Vorrei invitare adesso i rappresentanti delle istituzioni del Comune di Ciriè e del Comune di Rocca Canavese, la sindaca Loredana De Vietti Goggia e il vice sindaco Franco Balsamo per il Comune di Rocca. Grazie. Buongiorno a tutti, porto il saluto dell'amministrazione comunale di Ciriè, rappresentata oggi insieme a me anche dall'assessore Barbara Re, che è qui con me, che si fermerà appunto per tutta la mattinata, visto l'importanza del confronto. Saluto il vice sindaco Franco Balsamo di Rocca Canavese e ringrazio in particolare la Fondazione Troglia per l'ospitalità che dimostra sempre nei confronti, nei momenti importanti e anche di confronto come questo del territorio e soprattutto la Fondazione Cantabile e la Fondazione Anima di Confindustria per aver voluto dare vita proprio qui a Ciriè, peraltro per questo momento appunto come dicevo di incontro. E' bello come è stato importante anche coinvolgere tanti di questi partner che oggi parteciperanno in qualche modo a questo convegno perché è sintomo di una sensibilità importante su quello che è il lavoro, su quello che è la sicurezza sul lavoro e su quelle che sono state tragedie purtroppo davvero significative e toccanti del nostro territorio perché oggi ricordiamo e questo giunge alla fine ringrazio anche il Comune di Rocca per quello che ha fatto per il centenario della tragedia appunto avvenuta alla fabbrica FOS perché questo è un po' forse il completamento di un lungo ciclo di iniziative che è stato organizzato di sensibilizzazione su questo tema e ci tengo a ricordare che noi ci sentiamo molto vicini tant'è vero che non solo abbiamo partecipato a Rocca ma abbiamo anche ricordato, chi è stato presente lo ricorderà durante la serata dell'8 marzo che noi di solito dedichiamo le donne di Cirie abbiamo ricordato ai vicini di Rocca abbiamo ricordato veramente la tragedia che è successa appunto in questo centenario perché erano tutte donne, erano tutte ragazze giovani erano ragazze che si dedicavano con passione perché poi allora c'era veramente un grande attaccamento anche in questo senso, anche dei giovani all'idea di partecipare a qualche cosa che costruiva comunque il nostro paese e quindi, come oggi d'altro canto però era proprio un'idea di partecipazione magari a volte più di più a quello che era il mondo del lavoro e in questo momento noi dobbiamo ricordare anche quella che è stata una tragedia vicina appunto a quella di Rocca che è quella che vedo oggi che parteciperanno appunto anche i culure quindi noi ricordiamo oggi anche quella che è stata un po' l'inizio di quello che era poi tutto il lavoro che è stato fatto sulla sicurezza del lavoro perché avete detto bene da queste tragedie è partito comunque una sensibilità diversa che finalmente ha cominciato a produrre una legislazione, una documentazione e anche una strada da seguire affinché tragedie come queste non ne capitino più però purtroppo non è così quindi l'attenzione non è mai non deve mai venire meno perché purtroppo, come ben ricordava la Presidente Microno Costa è all'ordine del giorno quelli che possono essere gli infortuni sul lavoro le morti sul lavoro e tutto quello che purtroppo nonostante sia andato avanti il mondo in questo senso purtroppo questo non è sempre possibile allora noi dobbiamo continuare a fare memoria noi abbiamo a Cirie l'archivio proprio presso quello che rimane appunto dell'IPCA abbiamo l'archivio appunto di Guarignello che allora appunto ha dato inizio un po' alla situazione della sicurezza sul lavoro con orgoglio possiamo dire che abbiamo siamo riusciti negli ultimi anni ad intercettare fondi del PNRR per la riqualificazione di una parte appunto dell'ExIPCA e questo lo facciamo perché noi vogliamo da una parte metterla in sicurezza ma dall'altra parte farne appunto un museo, un percorso, un parco rubano che ricordi quello che è stato affinché ci permetta, questo ci permetta che questo non succeda più o comunque che noi riusciamo a limitare di gran lunga quello che possono essere le tragedie come queste quindi grazie per quello che avete fatto perché è veramente stato importantissimo riportare l'attenzione su queste 21 giovani vittime che dobbiamo sempre ricordare proprio perché questo non avvenga mai più grazie davvero buongiorno a tutti e grazie di essere qui tutti quanti ringraziare tutti quanti è facile ricordarli magari un po' meno quindi un ringraziamento generale io ho iniziato a leggere mi allaccio subito a una cosa diretta sul libro ho iniziato a leggere quel libro e penso che possa sembrare difficile ricordare una tragedia di cent'anni fa ma proprio quello che è stato detto fino ad adesso e leggerete sul libro è quotidiana la cosa quindi ricordarlo è facile non dimenticarlo deve essere altrettanto facile e continuare a migliorare quelle che sono le condizioni del lavoro io sono molto breve perché non è la mia dote quella del parlare la cosa più importante secondo me perché comunque ho lavorato 43 anni è il fattore umano non facciamoci condizionare da nessun atteggiamento di nessun datore di lavoro di nessuna attività propria pensiamo a quello che può succedere facendo del lavoro continuando a lavorare vi chiedo scusa vi ringrazio ancora a nome di tutta l'amministrazione comunale di Rocca Canavese il sindaco vi saluta impegnato in altre attività come dire grazie continuiamo a pensare a noi stessi alla nostra salute a non farci del male semplicemente questo grazie grazie